Le scene di guerriglia allo stadio Uganio con l'invasione di campo dei tifosi catanesi e il lancio di fumogeni e petardi verso la tribuna est dei padovani, dove erano presenti anche famiglie con bambini, riapre la questione della gestione della sicurezza all'interno degli stadi che è affidata agli steward ingaggiati dalle società. In questura si è svolta una riunione tra il questore sindaco Giordani e i vertici della società biancoscudata. Nei prossimi giorni si svolgerà un sopralluogo all'Euganeo per mettere a punto una strategia di sicurezza per evitare gli episodi visti durante Padova Catania. Dure le parole del presidente del calcio Padova, Francesco Peghin. Dispiacere e la rabbia che ancora negli stadi italiani si vedano delle belve che non dovrebbero avere avuto accesso allo stadio, quindi spero che a Catania i padovani che andranno saranno tutelati da queste belve o animali che si possono definire tali. Poi un ringraziamento alle forze dell'ordine e alla polizia che è intervenuta evitando problemi che non ci sono stati tra il pubblico incidenti. I cancelli vanno chiusi e le chiavi devono essere tenute dagli steward. Le immagini riprese dalle telecamere dello stadio immortalano l'inizio dell'invasione di campo con l'ultras et neo che scavalca e apre il cancello tremendo il maniglione cancello che doveva essere chiuso mentre lo steward tenta di bloccarlo. Fortunatamente non ci sono stati altri scontri alla fine della partita. Il sindaco di Padova, presente allo stadio durante gli scontri, ha condannato duramente le violenze. È stata una cosa che insegna al servizio di sicurezza che ha affidato alla società di calcio Padova a stare più attenti e seguire normativi diverse che sul questore metterà in alto. 8 poliziotte sono stati feriti, questo è dipercabile assolutamente, sono intervenuti rapidamente, sono intervenuti. Vi ricordo che la polizia non può stare dentro lo stadio, non può. Per cui erano fuori, fin trago, sono entrati. Uno spettacolo rovinato ha concluso Giordani che speriamo non capiti mai più. Fortunatamente non ci sono stati feriti tre tifosi biancoscudati. Nel settore della tribuna est c'erano anche dei bambini. Il risultato finale del match vede il Padova vincere per 2 a 1.